Ci avviciniamo a una partita contro i campioni d'Italia, contro quelli che hanno fatto vedere nella scorsa stagione il miglior basket vincendo tutto. Una squadra che ha mantenuto più o meno l'ossatura e lo stile di gioco dell'anno scorso con qualche cambiamento di giocatori importanti. Quindi non hanno cambiato tanto nello stile quanto hanno cambiato un pochino nella loro costruzione di squadra. Per noi è un test difficile, stimolante e impegnativo perché abbiamo vinto una partita domenica scorsa con un po' di pressione addosso perché volevamo assolutamente vincere per cambiare un po' questo trend davanti al nostro pubblico e adesso ci aspetta una conferma dove bisogna fare un'impresa per poter vincere. Quindi diciamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per questa gara sapendo che ci sono 4-5 temi tecnici tattici molto molto importanti su cui stiamo lavorando e su cui credo che se ci lavoriamo bene, se facciamo le nostre cose con grande dedizione e di energia possiamo perlomeno condurre sotto un punto di vista di ritmo la nostra partita che è la cosa più importante di tutti da fare contro Sassari. La squadra sta così, ecco, non bene non male, nel senso che abbiamo avuto oggi rimarrà a riposo ancora Pini per il solito problema che noi gestiamo con allenamenti del riposo e terapie si è fermato per un paio di giorni Alex Hacker però non aveva riscontrato nulla di particolarmente invasivo come infortunio e quindi diciamo che da domani speriamo di fare due allenamenti completi per poter arrivare alla nostra gara al meglio.